Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Niki The Farmer. Ebbene sì, ho delle mantidi. Prima di farvele vedere vi volevo parlare un po' della mantide. Allora, partiamo dal fatto che quando si parla di mantide in realtà si ci riferisce a due tipi di mantidi. La mantide quella comune e tutte le razze della mantide quella diciamo più comune e poi la mantide fiore e tutte le varie razze di mantidi fiori. La differenza è che la mantide fiore è quella mantide che usa il suo corpo come difesa e come attacco e viceversa. Perché lei ha il corpo di, poi in base alle razze ovviamente, o un fiore o una foglia e quindi di conseguenza i predatori non le scambieranno mai come prede e le prede della mantide magari non pensando al rischio che può avere un fiore o una foglia poi si avvicinano e questo fiore o questa foglia in base alla razza le acchiappa e se le mangia. Mentre la mantide quella comune è la classica sradicatrice che posso fare esempio tipo alla mantide religiosa, alle udella, cioè quelle di, sulle razze di quelle mantidi che non hanno una vera e propria, un corpo molto particolare, sono quelle solitamente verdi che sradicano tutte le prede che trovano. Quindi diciamo che sono veramente toste quelle, diciamo quelle più comuni perché sono delle sradicatrici veramente esagerate. La loro alimentazione ovviamente sono insettivore, vanno a alimentarsi dalle mosche, le mantidi fiori, più che altro gli sattivolanti perché essendo avendo la forma di un fiore o di una foglia è molto probabile che ritrovino insetti volanti, mentre la mantide, le mantidi come tipo la mantide religiosa mangia qualsiasi insetto solitamente quelli più che trova a terra che quelli volattili. In più le mantidi sono insettivore però sono come predatori sono molto particolari perché passano la loro vita diciamo in un rametto, fanno pochi movimenti, non sono invertebrati che si muovono tanto e quel perimetro è il loro perimetro poi di caccia dove poi vanno a cacciare, dove vanno a svolgere le loro funzioni di vita. Ogni dieci giorni loro fanno una muta, in generale le mantidi, anche se ovviamente per chi le tiene in cattività per permettergli tutte le varie giuste attenzioni di conseguenza farli andare a fare le mute, va tenuta molto d'occhio. L'umidità e anche il riscaldamento perché comunque sono animali che un minimo di riscaldamento lo richiedono. Io le tre mantidi che ho preso in particolare sono una mantide del fiore e due mantidi quelle comuni, diciamo quelle sradicatrici. Non che quella fiore non lo sia però preferisco molto di più io quelle più comuni diciamo che sono poi alla fine quelle più sradicatrici secondo il mio punto di vista e sono anche le mie preferite. Comunque non perdiamoci su le mie preferite ma andiamo a parlare un pochino della loro, della loro diciamo un po' vita, come la vanno a svolgere. Allora loro vivono un anno e mezzo, vivono da sole e il loro accoppiamento funziona anche il maschio quando trova la femmina la va a montare ma poi di conseguenza la femmina si vorrebbe liberare di lui per poi staccargli la testa. Quindi diciamo che loro non hanno pace, non hanno pace, sono veramente, sono invertebrati senza pace che persino fra di loro si scannano e infatti vivono da sole un anno e mezzo e poi il maschio quando vorrà andare a montare la femmina dovrà fare una cosa, fugge via anche se poi non ci riuscirà perché poi alla fine il maschio sa che gli verrà staccata la testa, è una cosa pazzesca. La femmina è più grossa del maschio, se in cattività si vorrebbe mai provare a copiare due mantidi devi stare attento che poi non gli stacchi la testa però sono tutti quei lavori che diciamo che io consiglio di prendersi un amante e di tenerle singole, nel senso non stare lì a fare accoppiamenti anche perché loro gli accoppiamenti li fanno poi nella loro natura che sicuramente sono più liberi che buttarci dentro un maschio che poi non farà una bella fine almeno che tu non stai proprio attento ma non è comunque facile perché appena può la femmina si prova a liberare del maschio e staccargli la testa. Mi pare di aver detto tutto sì, comunque diciamo che mi sono piaciute veramente tanto le mantidi, mi hanno incuriosito veramente tanto, sono animali che comunque non sono assolutamente tranquilli perché sono dei sradicatori di prima categoria però non devono stare in spazi elevati perché anche nella loro vita in libertà stanno alla fine in dei piccoli perimetri che poi quelli sono i loro perimetri di caccia, sono i loro perimetri di riproduzione, non stanno in libertà che girano tanto anche perché io ce l'ho e stanno sempre o in superficie a volte in terra per cacciare però sì, in sé stanno nelle superfici per poi andare a fare le mute, poi vanno a terra per cercare il cibo, questo è il loro ciclo vitale. È sempre importante anche l'acqua, infatti va messa sempre all'interno se vengono allevate soprattutto in cattività, vanno assolutamente messi ciotoline d'acqua all'interno per permettergli la disidratazione, spruzzare ovviamente giornaliera, una spruzzata ogni due giorni diciamo, riscaldamento è necessario d'inverno e come subestrato consiglio la fibra di cocco perché è quella che tiene meglio l'umidità, come diciamo nascondigli perché è importante che hanno un nascondiglio dove si possono andare a riparare se spaventate o stressate, io sono andata a utilizzare dei vecchi diciamo, come si possono chiamare, quelli che diciamo mettono ai grilli ecco e ci sono messi quelli lì in modo che loro possono riparare sotto, un bastone molto importante perché poi loro quando devono fare la mute è importante che hanno un buon modo per arrampicarsi la superficie, la superficie deve essere in rete, perché loro la mute l'andranno sempre a fare in superficie, fibra di cocco consigliata anche perché appunto tiene l'umidità, bastone, acqua all'interno, piccolo nascondiglio e basta. Terrario consiglio, terrario abbastanza buoni perché considerando che comunque quando acquisti in amanti ed è terrario veramente piccola, se prendete dei terrari che magari hanno dei buchi così rischiate che vi scappino. E adesso ve le posso far vedere. Ecco questi sono i miei tre terrari dell'Azioterra, sono terrari veramente molto buoni, io mi trovo benissimo con i terrari dell'Azioterra, questo lo sapete già. Allora, diciamo che partiamo da questa che è la mia amante di fiore, la razza è questa, ve la faccio leggere, non ve la faccio, non ve la pronuncio perché riderete della mia pronuncia, quindi ve la faccio vedere, è questa qua, veramente ve la provo anche a far vedere se non combino qualche casino che mi scappi da dentro il terrario, eccola qua, è bellissima, è bellissima, questa è un'amantide che veramente ti sedi lì a volte al giorno a guardarla e non ti schiodi più da levargli gli occhi da dosso perché è veramente un'amantide stupenda, anche se devo dire che non sono mai riuscito a vederla a cacciare. Ah, ecco, è importante, per l'alimentazione in cattività io li do quando sono piccoli i vermetti perché i grilli non hanno una buona reputazione perché dicono che non sono molto consigliati per le mantidi, le blatte sì, però quando sono piccoli non è molto consigliato, sono meglio i vermetti, quelle diciamo, le tarme della farina e oppure quando sono un po' più grosse si possono dare delle piccole blatte come potrebbe essere una blatta lateralis, ecco, le blatte dubbia no perché sono troppo grosse. Qui abbiamo la mia seconda amantide, vi faccio anche questa, leggere il nome, ed è questa qua che la possiamo notare anche da qui, qua appunto c'è il vermetto che verrà di conseguenza mangiato dalla mia fantastica amantide e ve la faccio vedere, questa è una amantide veramente fantastica, la mia preferita fra tutte le tre ed è veramente una amantide fantastica, è una sradicatrice di prima categoria che appena gli butti un insetto dentro se lo sradica. qui c'è ovviamente l'acqua, anche lei ovviamente l'acqua sempre e questo è tutta la sua, la sua, il loro allestimento e qui c'è la amantide gigante, è enorme, guardate un po' quanta è grossa e questo che appunto è il tutto l'allestimento con la grande amantide gigante. Mi hanno già fatto le mute, me le hanno già fatte due o tre, perché non ce l'ho da due giorni, in realtà ce l'ho già da due mesi, però ho aspettato per farvele vedere, perché onestamente prima di farvele vedere mi volevo informare molto e in più volevo averci un mio punto di esperienza e devo dire che mi sono trovato molto bene, le consiglio molto, soprattutto a chi piacciono magari gli insetti carnivori ma magari non ha la possibilità, magari non può prendersi una tarantula o uno scorpione, le amantidi forse è l'invertebrato carnivoro, non pericoloso, ecco, è molto bello, è molto affascinante, devo dirvi la verità, mi sono trovato veramente bene, anche se non pensavo perché da come io conoscevo la amantide non pensavo che fosse così bella, ma invece è veramente un animale che mi è piaciuto veramente tanto e sono veramente contento di averle avute, ora ne ho tre perché sapete che una, no? Due, non c'è due senza tre e quindi va bene, eccoci qua con tre amantidi. Vi aggiornerò sicuramente su di loro, magari farò video un po' più specifici perché è vero che questo non è stato un video magari molto preciso, però vagamente avete capito di cosa si sta parlando. Quindi lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e ciao a tutti ragazzi, ciao!